Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Brass Lancashire, edizione del 2018, perché se non erro la prima edizione era uscita nel 2007-2008, una cosa del genere. Comunque in questa nuova edizione un gioco di Martin Wallace, edizione della Roxley ed edizione italiana completamente localizzata della Genos Games, che io ringrazio di cuore per avercene fornito una copia per la recensione. Grazie ragazzi, è sempre un piacere e un onore collaborare con voi. Brass Lancashire, che ha avuto poi tra l'altro anche un'altra... non è un'espansione perché sarebbe proprio un gioco stand-alone, che si chiama Brass Birmingham, è un gioco che ci vede durante la grande rivoluzione industriale in un'Inghilterra a cavallo fra il 1700 e il 1800. Diciamo fra la seconda metà del 1700 e la prima del 1800. Ed è un gioco molto bello e interessante perché ci vede affrontare due ere diverse, due epoche industriali diverse, che è una cosa anche geniale, volendo, perché di solito queste cose difficilmente si vedono in un board game. Di solito la seconda era te la fanno giocare in un'espansione o in una cosa del genere, invece qui no. In questo gioco dovremo giocare due ere che saranno la prima, l'era dei canali, quindi quando tutti quanti il carbone, quando il ferro venivano trasportati o con i carretti, con i cavalli, oppure con i battelli, quindi a livello fluviale, e la seconda all'epoca delle ferrovie. Quindi quando era possibile spostare molto più ferro e molto più carbone direttamente con le ferrovie, i treni e industrializzando appunto quella parte dell'Inghilterra molto di più, affinché si potesse vendere in porti lontani tramite direttamente navi, battelli e barche, imbarcazioni grosse, quelle che oggi sono un po' tra molte virgolette container, però era possibile trasportare molta più roba con i treni, con le ferrovie rispetto al tempo dei battelli. La logistica fluviale che c'era all'inizio. È un gioco da 2 a 4 giocatori, durata media 60-120 minuti, sì, secondo me ci sta, e 14 anni o più. Come giochi che ho già recensito recentemente, o comunque in tempi brevi, l'età ci sta, ma non tanto perché sia un gioco così, questo è un pochino più complicato degli altri, e a dire la verità, non è sicuramente vero ragazzino, però sono anche quei temi trattati abbastanza maturi che possono interessare o no, e vi devo dire la verità, a me questo brass come livello di aumentazione mi piacciono anche quegli anni lì, 1700-1800 e industrializzazione vera e propria, e anche come si è visto barrage della cranio, sono giochi che invece riescano a prenderti e mi interessano. Le meccaniche forse di barrage erano leggermente più veloci, queste sono leggermente più complesse, ma roba di poco poi alla fine viene nemmeno tanto, anche questo è una corsa e punti, e quando finirà la seconda era, che sarà l'era quella dei treni, appunto all'epoca delle ferrovie, chi avrà più punti a fine del turno, a fine di aver giocato le carte in mano avrà vinto la partita. Vi faccio vedere un po' come funziona. Unboxing, bellissima la copertina, poi la scatola, insomma, abbastanza grande, non spessissima perché la roba dentro poi non è tantissima. Vediamo questo magnate che fuma la pipa e sta vedendo una specie di fabbrica o comunque estrattore qui in mano e vediamo che era proprio l'epoca dove c'erano ancora le imbarcazioni a vela, l'epoca più bella. Anche perché calcolate che nel fine 600 e da inizio 700 fino verso il 770-780, ragazzi, era l'epoca dei pirati, eh? Cioè, in quegli anni lì c'erano i pirati, nei Caraibi, anche nei mari dell'Europa, e quindi era rischioso, insomma, girare anche per i mari e portare, soprattutto commerciare con porti lontani, se non con l'Oriente e cose del genere. Apriamo. Il regolamento che ci fa vedere tutte le componenti, che non sono tantissime alla fin fine, anche perché è un gioco di posizionare le strutture nel momento e nel posto giusto. Qui ci fa vedere, questa è una parte di background, ci fa vedere tutti quanti i personaggi che ci sono in gioco con la loro storia, praticamente, quindi tutti quanti i magnati dell'epoca e questa qui è soltanto una parte di background, la potete saltare, insomma, senza regole, senza niente. Poi, da questa parte, la mappa di gioco con tutte le regole. Il regolamento, ragazzi, non è semplicissimo, ve lo dico, mi ci sono volute due letture per capirlo e la terza per fugare ogni dubbio e poi, vi ripeto, magari se anche nel corso del video mi rendo conto di un errore, lo metto con la nota al video, se no, ragazzi, è normale, cioè, fanno anche errori a volte dei stessi sviluppatori dei giochi, quindi ci può stare. Tanto la mia è un'infarinatura. E comunque, tutte quante le regole, tra l'altro, dettagliate bene e qui meglio di altri giochi perché non solo c'è la figura che ci fa vedere l'esempio della regola appena descritta ma ci sono anche le lettere, così voi, questo dov'è H? Ah, vado a vedere e fino a che non trovi la H. M dove si trova? Ah, sì, la M è questa qua giù dove ci sono le carte. Quindi, perlomeno, è spiegato veramente bene e veloce. Un bel po' di bustine perché c'è da mettere da parte tanta roba che sono più che altro le strutture, i soldi e altri vari token Token di legno per tenere traccia dei punti vittoria da questa parte e quest'altra invece sono per la rendita personale Cubettine arancioni per il ferro, cubettine nere invece per il carbone Un bel mazzo di carte per fare tutte quante le azioni del gioco, costruire strutture e cose del genere Soldi, che ovviamente ci sono nei vari tagli, questa è la moneta da uno ma ci sono anche tutti gli altri tagli Plance dei giocatori con tutte le raffinerie, con tutte quante le loro aziende Vedete qua giù tutte quante le loro industrie con scritto accanto il prezzo e quant'altro Tanto poi ve lo faccio vedere dopo Carte mercato lontano, carte magnate Poi da questa parte di qua dietro invece ci sono tutto il restante dei token vari, insomma soldi e quant'altro E tabellone di gioco che ora vi faccio vedere aperto Vi faccio vedere un po' come gira un turno Questa ragazzi è la mappa di gioco Vedete, è un gioco classico, vedete i disegni dove dovete andare a costruire porti Dovete andare a costruire cantieri navali Dovete andare a costruire ferriere Dovete andare a costruire cotonifici Insomma, voi dovete industrializzare tutta quanta questa regione appunto dell'Ancashire Nella data che va dal 1770 al 1870 Praticamente cent'anni di sviluppo passando in due ere Infatti se vedete bellino sul tavolo ci sono i collegamenti sia con la ferrovia che fluviali Banale dirvi che dove c'è ferrovia e fiume, ce le potete costruire tutte e due Dove c'è un collegamento fluviale solo per i battelli e imbarcazioni Dove c'è la ferrovia solo per le ferrovie Descrivendo tutto quanto il tavolo vedete qua giù c'è i punti vittoria Quindi ci mettete, ah, noi abbiamo fatto il setup per una partita a 4 giocatori Tra l'altro ci siamo dimenticati di mettere questo qua giù E ora vi faccio vedere il perché Lo mettiamo su uno Perché questo qui sarà l'ordine di iniziativa iniziale Quindi nel caso ci fossero altri personaggi Che ne so, il giallo si muove per il secondo Questo qui è casuale, mescolateli e le fate per scaocchi chiusi Magari, boh, il blu Questo qui si muove per terzo E il rosso si muoverà per quarto E ciascun giocatore ha due azioni Poi, punti vittoria Qua giù, ogni volta che guadagnate dei punti vittoria Lo fate salire E praticamente potete fare il giro del tavolo Quando arrivate a 100 Ci mettete un cursore, qualcosa E potete riniziare il giro Ma farne più di 100 È veramente difficile Non impossibile, ma difficile Questo tondo invece è la rendita Noi abbiamo scelto il colore viola Questa qua giù invece è il tracciato del commercio lontano Con i porti lontani Quindi ogni volta che farete un commercio del genere Questa andrà a scendere Fino a che non sarà più possibile utilizzarla Quando arriverà sulla X Vedete c'è un tracciato da seguire Queste qui sono le tessere del mercato lontano Che ogni volta che farete una vendita Col mercato lontano Dovrete andarla a girare E vedere il valore che c'è sotto E quindi sposterete questo di conseguenza Come detto precedentemente E anche ovviamente la vostra rendita Che andrà a salire Queste carte qua su Sono alla mano di ciascun giocatore Che all'inizio Ognuno deve pescarne 8 E arrivati a un certo punto Vedete che ce n'è una grossa Questa qui Che denota la fine dell'epoca fluviale E a un certo punto verrà girata dall'altra parte Per l'inizio dell'epoca invece delle ferrovie E a quel punto capirete che Ci sono varie regole Tipo non potrete più prendere prestiti dalla banca E cose varie Insomma denoterà che la partita sta per finire E bisognerà iniziare a fare l'ultima azione Per poi tirare i conti E queste qui sono le carte Che ciascun giocatore Ne deve sempre avere 8 in mano Quindi quando finirete queste 8 carte di giocarle O ad esempio turno dopo turno Nel vostro turno Visto che avete due azioni Giocate una o due di queste carte Subito appena passate la mano al giocatore successivo Dovete pescare un'altra Voi in mano dovete sempre avere 8 carte E non ne potete mai giocare Più di un tot a turno Vedremo che ci sono azioni Che ti consentono di usarne Magari una, due, tutte insieme Però voi per ogni turno Ne potete giocare due E dovete sempre ripescarne Fino ad averne 8 in mano Poi ve l'ho detto Tutta quanta la mappa Con i vari simboli che ci sono sopra E dove vedete queste due freccette Vuol dire che è possibile fare un commercio Con porti lontani Quindi che ne so Di solito sono in tutti quanti i porti Quando li andrete a posizionare Perché ora vedete non c'è niente O se no tipo con la Scozia Con lo Yorkshire O comunque Nuove location a bordo mappa E tipo anche le Midlands Quaggiù Quando c'è questo simbolo qui Vuol dire che è possibile fare l'azione Quaggiù Che vi avevo detto Ordine di iniziativa Quassù in cima invece c'è La riserva di carbone Nera La riserva di ferro Arancione E qui ci fa vedere Quanto costa costruire Dei collegamenti Nell'epoca fluviale Quindi la metà Lo vedete del cerchio La mezzaluna celeste Vuol dire che potete usarla Solo nell'epoca fluviale La prima parte del gioco La prima metà Costa tre Costruire un collegamento Tipo questo Vi faccio vedere Costa tre Quindi dovete pagare tre monete E ne potete costruire Soltanto uno Per turno Non di più E non costa niente Solo monete Quando invece dovrete andare Nell'epoca industriale Dei treni A costruire le ferrovie Ne potete costruire Due per turno Vedete il costo Ovviamente sale Solo nell'epoca Delle ferrovie Però costruire una ferrovia Costerà la prima Un carbone E quindi dovrete usare Un cubetto La seconda due carboni E basta girare il token Vedete Da una parte c'è il battello E dall'altra parte C'è il treno Ora vi faccio vedere Bene o male Quali sono le azioni Che potete svolgere Le azioni che potete svolgere In un turno Spendendo le vostre due azioni Perché ce ne avrete Sempre due Da inizio a fine partita Sono costruzione Collegamento Sviluppo Vendita E prestito E ora poi ve le vado A descrivere nel dettaglio Plancia di ciascun giocatore Lasciate stare il casino Che c'è davanti Che sono le tessere Del giocatore Di colore marroncino Quindi queste Non contano Non le vedete Allora Questa è la riserva Di ferro e carbone Che mettete accanto alla mappa Queste sono le 30 monete Di partenza Che ciascun giocatore Deve avere Questi sono tutti i collegamenti Del giocatore Di colore viola La mano di 8 carte Appena pescata Che devono sempre essere 8 E tutte quante Le strutture Vedete Ah qua su ci sono tutti quanti I soldi della banca Insomma sono soldi in comune Che potete guadagnare Se dovete Se fate una vendita Con un mercato a lontano Andate a prendere direttamente I soldi da qui O alzate la rendita O se dovete prendere Un prestito dalla banca Sempre uguale Lo pescate qui Dal mazzo in comune Poi vedete che Ci sono tutte quante Le industrie I porti I cantieri navali Le ferriere E le fabbriche Di carbone Che sono divise Per livello Si va da livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Quindi livello 1 in fondo Livello 4 in cima E quando andate a costruire qualcosa A parte il cantiere navale Che ora ve lo faccio vedere Quando andate a costruire qualcosa Vi dice sempre qui sopra Quando e soprattutto Lo potete costruire Quindi c'è un disegnino accanto Sempre nella fase fluviale O nella fase invece Delle ferrovie E poi accanto Vi fa sempre vedere Il costo Quanto costa costruirlo Tipo una di livello 1 Non costa risorse Però vi costa 12 monete Una volta che sarà girata E utilizzata Vi dice di quanto saliranno I vostri punti Vittoria nero E punti rendita sotto Ad esempio Se ne vorreste costruire Una di livello 1 Ad esempio qui Una ferriera Per costruirla Vi costa un carbone Oppure una di livello Oppure un'industria Di livello 3 Vi costa un carbone E un ferro Ora Quando voi andate A costruire qualcosa Dovete sempre E per forza Partire da quelle Di livello 1 Sempre Quindi la prima cosa Che andrete a costruire Sarà quella di livello 1 Poi Potrete più avanti Fare un'azione Di sviluppo Che vi consentirà Di costruirne una di livello superiore Non dovete fare scalette Cioè se dal livello 1 Volete arrivare al livello 4 Lo potete fare Non serve che prima fare il 2 Poi il 3 Poi il 4 Dovete avere soldi Ovviamente le risorse E facendo questa azione Di sviluppo Vi consentirà di rimuovere Una fabbrica Un porto Insomma qualsiasi cosa Di livello 1 E metterla con uno di livello successivo Che farà più risorse Vi darà più punti vittoria Più punti rendita E tutto Ricordatevi soltanto Che alla fine della prima era Alla fine della prima Tutte le strutture Di livello 1 Devono essere Rimosse Rimarranno solo quelle Dal livello 2 In su Quindi quando finirà L'epoca fluviale Vede Cercateli Avete fatto già Un level up A tutte quante Perché sennò Vi verranno tolte Saranno tolte dal tavolo E dovrete poi dopo Andare a comprare Quelle di livello 2 O superiore E poi ci sono tutti quanti I punti accanto L'unica differente È il cantiere navale Che vedete Che ha praticamente Un lucchetto Che vuol dire Che prima di costruire Il cantiere navale Di livello 1 E successivamente Fare un upgrade A livello 2 Dovete prima Usare un'azione Per rimuovere questa Una seconda azione Per rimuovere questa Quando non ci sono più Potete usare la terza azione Vi serve uno di ferro Uno di carbone Tutto quello che vi ho detto Per costruire direttamente Un cantiere navale E questo vi servirà Per fare le consegne E tutto il resto Insomma ve l'ho già descritto Quindi andando In ordine di iniziativa Quindi il giocatore Viola primo Il giallo secondo Così via Ciascun giocatore Farà due azioni Sia chiaro Potete anche passare Però se passate Dovete per forza Scartare Una delle otto carte Che avete in mano La mano iniziale Che vi ho fatto vedere Quindi anche se dite Io passo Perché prima di fare azioni Voglio vedere come si muovono I miei avversari Passi Ma comunque una carta Alla scarti E scartando una carta Tenetele sempre dal lato coperto Gli altri giocatori Sono segrete Non ve le devono vedere in mano Però Quando andate a scartare La scartata Faccia in su Nella pella degli scarti E le carte E le carte Sono divise per colore Vedete ad esempio C'è Preston Che è il colore arancione Quindi vuol dire Che voi potrete andare A costruire Qualsiasi cosa Un'industria Una ferriera Un carbone Solo nella regione Questa qui marroncina Quindi questa regione Quaggiù di Preston E nella fattispecie Appunto Dove c'è scritto Preston Vorrà dire Che potrete andare A costruire Giocando ad esempio Questa carta Qualcosa Solo Quaggiù a Preston Nella città di Preston Nella zona di Preston Quindi voi Potete costruire Qualsiasi cosa In questa città Quindi In questo caso qui Vedete che gli slot Disponibili A parte le ferrovie Collegamenti Sono Un porto Un porto O un'industria E una ferriera Quindi questa Ti consente di costruire Solo dove c'è scritto Ad esempio Questa Ti consentirebbe Di costruire qualcosa A Stockport Quest'altra invece Ti consentirebbe Di costruire qualcosa A Wigan Ricordatevi che Ci avete due azioni a turno Quindi non le potete giocare Più di due carte Ovviamente Magari costruite qualcosa Leviamo questa qui Andiamo soltanto Sulla regione marroncina Quindi la prima cosa Che voglio costruire È qualcosa Visto per le carte Che c'ho in mano Perché io vorrei costruire Anche da altre parti Ma non c'ho la carta Magari c'è l'altro giocatore Io a Preston Che è qua giù Voglio costruire qualcosa Io dico Va bene Laggiù voglio costruire La mia prima industria Per costruire La mia prima industria Vado a spendere 12 monete Quindi prendo le 15 Le butto nella banca E ovviamente vado a prendere Il resto di 3 Che sono queste qui Che me le metto in mano E qua giù Vado a costruire La mia industria Quindi Ah mettetele sempre Dal lato coperto Mai dal lato nero di là Che servirà dopo Quindi io qui Nella mia industria A Preston Vado a mettere La mia prima industria Di livello 1 Prendo i soldi Del resto E scarto la carta Preston Poi Quest'altra carta Mi consentirebbe Di costruire qualcosa Ad esempio A Wigan Che qui ci sono soltanto Vedete Carbonerie Qui ci posso andare A costruire soltanto I carrelli Le miniere del carbone Che sono la cosa Tutto girava sul carbone All'epoca E quindi la cosa più importante O se no Come seconda azione Potrei giocare Ad esempio Una carta del genere Tipo questa Che mi dice Costruisci un porto Le carte grigie E ricordatevi C'è sempre il simbolo Un porto Ovunque sulla mappa Ovunque Anche zone Che non sono direttamente Collegate a te Quindi Ora infatti Vi spiego collegamenti Quindi io potrei dire La seconda Visto che mi serve Un porto Per fare commerci Ovviamente con Nazioni lontane Con il commercio Quello lontano Come è chiamato nel gioco Io per fare una cosa Del genere Col porto Vado a mettere Che ne so Nella città di Liverpool Quaggiù Che c'è bisogno Oppure questo qui Che è unico Vado a mettere Direttamente Un porto Quindi prendo E vado a mettere La tesserina Come avete visto Del porto Che ha questo simbolino Che è su tutti i porti Questo simbolo Quaggiù vuol dire Che posso andare A commerciare Vi ricordo Con l'azione Di commercio Lontano E quindi Alzare la rendita Perché il gioco Si basa tutto Sulla rendita Questa potrebbe essere La mia seconda azione Nel caso io non avessi Questa carta in mano Che mi consente Di costruire qualcosa Dove voglio Posso fare un'azione Dove scarto Due carte random Quelle che mi pare a me Qualsiasi che ci abbia a mano E scartando queste due carte random Posso costruire Una struttura Un porto Insomma Qualsiasi cosa che voglia Ovunque sulla mappa Quindi comunque Io potrò andare a costruire Qualcosa Dove mi pare Ricordatevi che Piccolo chiarimento Quando usate l'azione doppia Cioè che usate due carte Per costruire ovunque Non deve essere collegata a voi Quindi comunque Non deve essere nel vostro range Voi potete costruire Dove mi pare Anche in un punto Imprecisato O anche nel punto Di un altro giocatore Non c'è problema Quando invece usate Un'azione grigia Potete costruire Un ad esempio Un porto Vi faccio l'esempio Dove volete voi Però dove volete voi Che sia connesso In qualche modo A qualcosa che già avete Vi faccio l'esempio Noi abbiamo visto Che abbiamo messo a Preston Quaggiù un'industria Però l'industria Al momento Poi gireranno i turni Gireranno le mani E tutto quanto Questa la tolgo Non è connessa Perché non è connessa Via Fluviale Come vedete Per costruire cose fluviali Ovviamente dobbiamo andare A costruire Quello che vi ho fatto vedere Quassù con la spesa Quindi io Con la regola di uno Al turno Dovrei Se volesse andare a costruire Un porto Quaggiù in fondo Dovrei collegare Ovviamente la mia industria Laggiù Se no come ci arrivo Da qui a là Per andare a vendere Sarebbe impossibile Un cenano Gli elicotteri O le aeree al tempo Quindi dovrò mettere Che ne so Questo qui Collegamento fluviale Qui Poi ne dovrò costruire Un altro Che mi porti Ad esempio Quaggiù E poi ne dovrò costruire Un altro ancora Vedete qui Ah si possono sfruttare Anche quelli di altri giocatori Quindi se qui nel caso Ce ne fosse uno rossa Andrebbe ben uguale Però io ora vi faccio vedere Tutto di unico colore E quindi Posso andare A costruire Questa cosa Quaggiù Perché è connessa Con la regola Di sprecare Le due carte Invece posso costruire Dove voglio Anche se non è connesso A qualcosa di mio Lo posso fare tranquillamente Questa è l'unica differenza A questo punto La mia industria Come vedete Quaggiù È connessa Direttamente al porto Però le industrie Servono per fare L'azione di vendita Che per fare L'azione di vendita Voi praticamente La dovete girare Deve essere connessa A un porto Lontano E voi utilizzate L'azione di vendita Vedete Tutte le carte Ci hanno Una volta girate Ci hanno un simbolino Qua su in cima Che serve per il conteggio In alto a destra Quindi il giocatore Una volta che la gira Per andare a vendere Con la sua azione Guadagna 5 punti Vedete qui Vittoria E quindi questo Lo fate salire 1, 2, 3, 4 e 5 Lo fate salire Immediatamente Il conteggio qua su Poi ve lo dico dopo E in più Guadagna 5 punti rendita Rendite Non vi dovete muovere Per livello sui gialli Ma sui numeri neri sopra Quindi Magari di 5 Fa 1, 2, 3, 4 e 5 La sua rendita Vedete Da 0 che è all'inizio 1, 2, 3, 4 e 5 Passa a livello sotto Rendita di 3 Praticamente la rendita Ti dice Quando finisce il turno E avete speso i vostri soldi Quanti soldi devo prendere Dalla mia rendita Delle mie strutture Guardate a che livello Siete pescate In questo caso Se fosse 3 La sua rendita Sarebbe di 3 monete Non può mai arrivare La rendita a più di 30 Quindi io Usando quest'azione Che sono andato a vendere Automaticamente Avendo fatto l'azione di vendita Solo in un porto O nei collegamenti esterni Dove ci sono le due freccette Giro La prima di questa La metto sotto Quindi Vado di 3 Vedete Meno 3 Quindi faccio 1 2 3 E automaticamente Becco Un'alta rendita Di 2 Quindi alzo 1 E 2 Perché sono andato a vendere E il commercio è andato a buon fine Praticamente Quando arrivate in fondo È come se tutte le navi fossero partite Non ci fosse più Possibilità di commerciare Con i mercati lontani Quindi Qui Chi prima arriva Anche lì Meglio alloggia E mano a mano Che è andato avanti La rendita Come vedete È sempre più bassa Quindi il primo Che la sfrutta È alla fin fine E la carta più bassa Che gira dal valore È quello che guadagna Più di tutti Quindi queste sono le azioni Che si possono fare Per andare a costruire Quando andate a costruire Qualcosa Che ad esempio Sia una fabbrica Perché le fabbriche Sono le cose più importanti Del gioco Quando andate a costruire Invece Il cantiere navale Quando lo mettete Subito È l'unica volta Porti Le altre cose No Automaticamente La dovete girare Una volta posizionata E ancora una volta Prendete i punti vittoria Che ci sono scritti Quaggiù Quindi Tata Risalga un'altra volta E in più I punti rendita Questo simbolo qui Ora ve lo dico a breve L'unica carta Che girate già Quando la posizionate È il cantiere navale Poi Per il resto Le cose più importanti Che potete andare a costruire Ve le metto Tutte quante Nei punti giusti Ad esempio Qui Potrei costruire Su Wigan Se ho la carta Con le regole di prima Potrei costruire Io metto qui La miniera di carbone Di livello 1 Perché almeno Che non abbiate fatto Upgrade Ragazzi Questo è E ci devo mettere Sopra due cubetti neri Come c'è scritto Nell'immagine Quindi due cubetti neri Questa miniera di carbone Ha prodotto Due di carbone Nel caso Io volessi metterne Una di ferro Una di ferro Ad esempio è qui Questa ferriera Qui produce Quattro di partenza Di ferro E le mettiamo qui Regola vuole che Quando voi andate A costruire Una struttura La struttura Deve essere Connessa A una delle fabbriche Quindi una ferriera O una miniera Dove si produce Il carbone Per poterla costruire Ad esempio Se io vado a costruire Una struttura Di livello 2 Ok Un'industria di livello 2 E la vado a costruire qui Io non la posso costruire Perché questo Ha un costo Di carbone Di 1 Ora Se ci fossero Delle strade Sia nell'epoca Dei treni Che dei battelli Così che vanno a collegare Vi faccio vedere Uno qui E uno qui Io la regola vuole Che devo andare A comprare Il carbone Per forza Se lo voglio prendere Da un altro giocatore O anche da una mia Miniera Lo devo andare a prendere Dalla fabbrica di carbone Più vicina Quindi Qui sarebbe 1 e 2 Mettiamo caso Ce ne fosse anche Una qui E quindi ce ne metto Un'altra Che potrebbe essere O mia O di un altro giocatore Quello non ci interessa Ai fini della partita Magari qui ce n'è una Di livello 2 Che ce n'ha 3 A quel punto lì Io posso decidere D'andare O di qua O di qua Scelta mia Perché Vedete Sono adecenti Tutti e due Invece Quando vado a comprare Il ferro Nota storica Il ferro Al tempo Ce n'era veramente Poco bisogno E gli ingotti di ferro Venivano trasportati Addirittura con i carretti A cavallo Quando io devo andare A comprare il ferro Lo posso comprare Da ovunque Io voglia Da ovunque Anche se non è connesso Magari questo non è connesso Alla mia rete Che la rete tua È quando c'hai Un'industria E poi deve essere connessa A qualcosa Con una strada Anche se io da qui Per costruire questo Che mi servirebbe magari Scavolo Perché qui ci vuole uno di carbone Ma ci volesse anche uno di ferro E ce l'ho a questa distanza E non è connesso Posso comunque prenderlo Da dove mi pare Sul campo di battaglia Sul tavolo Perché alla fin fine Veniva trasportato a cavallo E cavallo insomma Passavano per le campagne Con i carretti E tutto quanto Quindi lo posso prendere Direttamente da lì Quindi il ferro Lo prendo da dove mi pare Il carbone Lo prendo da dove mi pare Nel caso non ci fosse Carbone Quindi qui non fosse connesso E il ferro fosse finito Completamente E io voglio andare A costruire questa Dico va bene Ma il carbone Dove lo prendo Lo posso andare a comprare Direttamente dal mercato Dal mercato Che vedete qui Si prendono sempre Quelli più in basso Quindi vedete che il carbone Io lo posso andare a prendere Spendendo uno Ah Per comprarlo dal mercato Il carbone Ancora una volta Dovete essere Dovete essere Collegati a un mercato Lontano Quindi se questa qui È sola Soletta E non è connessa Ad esempio Qui Qui E Qui A un mercato Lontano O comunque a un porto Con le due freccette Io comunque Non lo posso andare A costruire Perché da dove lo prendo Il carbone Mentre anche qui Il ferro Te lo consegnano Direttamente col carretto E pagate sempre Il livello più basso Quindi se io ho nessuno Che mi dà il carbone Lo prendo direttamente Da qui E quindi pago Una moneta Qua su in cima La metto nella pila Degli scarti E in più Prendo il carbone E lo vado A mettere qui E costruisco Questa fabbrica Quindi questa fabbrica È stata costruita Non la dovete girare Le industrie non si girano Fino a che non usate L'azione di vendita Quindi questa comunque Si sa che è costruita E lì Però la dovete lasciare Girata da quel lato Le monete che avete speso Rettifico Non le dovete mai Buttare nella pila Degli scarti Ma le dovete mettere Sulla faccia Del vostro giocatore Perché praticamente A ogni turno Quando avete giocato Le vostre due carte Due tè Due il tuo avversario Quando tutta Hanno fatto l'azione Il turno cambia E il giocatore Che ha speso più soldi Va per ultimo E quello che ha speso Meno soldi Va per primo Si va scalando Praticamente quello Che ha speso meno soldi Dopo prende l'iniziativa E così si vanno A costruire le strutture Quindi mettendoci sopra Le risorse che servono Poi Quando Mettiamo caso Che questa ancora Sui quattro cubetti di ferro E questi due Mettiamo caso A altri giocatori Nei dintorni Serva del carbone E la struttura Più vicina Adiacente Magari è questa qui Per il carbone Quindi il giocatore Che qui Per regola del gioco Non può fare Altrimenti Dice visto che il più vicino È lui Io prendo il carbone Da lui Quindi me ne serve due Scarto due di carbone Automaticamente Quando ripulite Di tutte quante Le sue risorse Una fabbrica La fabbrica L'industria Viene girata E quel giocatore lì Prende il proprietario I punti vittoria E la rendita Quindi ancora una volta Il punto vittoria sale E la rendita sale Di conseguenza E quindi Li fate guadagnare E anche quella La cosa figa del gioco Perché chi viene A prendere da voi Non paga Sia chiaro ragazzi Non pagate soldi I soldi si pagano Solo dal mercato Però facendo così Io se faccio finire Tutto il ferro a questo Quel giocatore dice Boh io sono contentissimo Tu me l'hai fatto finire tutto Anche se non l'ho utilizzato Per costruire Le mie strutture Però sono contento uguale Perché girando Mi hai fatto guadagnare Tre punti vittoria E tre punti rendita E il gioco ragazzi Gira tutto intorno a questo Poi Ovviamente L'epoca fluviale Ha delle regole particolari E finisce in un momento particolare L'epoca invece Delle ferrovie Ha regole particolari E anche quella Finisce in un momento particolare L'ultima azione Che si può fare È quella di Prendere dalla banca Quindi andare a prendere Soldi dal mucchio della banca Perché magari ci servono Nei tagli Che potete andare a prendere Sono 10 monete 20 monete O 30 monete Nel caso prendiate 10 monete Dalla banca Quindi magari 5 e 5 Ve le faccio vedere così Nel caso prendiate 10 monete Dalla banca Dovete abbassare La vostra rendita Di un livello Non di una casella È di un numerino Proprio di un livello Direttamente Quindi va qui Nel caso prendiate 20 monete Dalla banca E quindi anche qui Le potete andare a tagliare Un po' come vi pare Ve le metto così accanto Queste sono 10 Rendita di 1 20 monete Rendita di 2 Quindi da qui Scalerebbe qua giù Nel caso ne prendiate 30 Scalerebbe fino a qui Ricordatevi che A fine di tutto quanto Il turno E il turno finisce Con l'epoca Con l'era Ovvero quando finisce un'era Voi dovete direttamente Andare A fare il conteggio Della vostra rendita Sul livello dove siete E prendete tante monete Quanto è il vostro livello Se il vostro livello Invece qua sotto è negativo Siete voi che dovete pagare Sordi alla banca Perché praticamente Avete un debito E sarete voi A dover andare Non guadagnerete niente Andrete a pagare Sordi alla banca Quando finisce un'era Anche si va a fare Tutto quanto il conteggio Delle strutture Che abbiamo costruito E questa è la parte Mi importante Perché si prende Un punto Vedete questo simbolino Qua giù in alto a destra Si prende un punto Per ogni struttura Che abbiamo rigirato Dal lato di là Quindi azione di vendita Oppure semplicemente Le fabbriche Quando sono state utilizzate Si prende un punto Per ciascuna Nostra tessera Girata Quindi nel caso Anche il porto Si gira Scusate Perché quando il porto Lo utilizzate Per fare l'azione di vendita Automaticamente fate guadagnare Al giocatore Proprietà di quel porto Che sia connessa Alla vostra rete Quindi per vedere Se qualcosa è connessa Alla vostra rete I collegamenti Ad esempio Questa è connessa Alla mia rete Sì perché c'ha Dei collegamenti Questo è uguale Questa è connessa Alla mia rete Questa è connessa Alla mia rete Il giocatore viola Sempre l'esempio Questa è connessa Alla mia rete Poi questa è connessa Alla mia rete E se ho fatto una strada Qui devono essere Tutte quante Connesse alla vostra rete E prenderete un punto Per ogni struttura Connessa alla vostra rete Quindi un punto Due punti Tre punti Quattro punti Cinque punti Sei punti E anche questi sono punti Che alzeremo Qui ovviamente Quindi uno Due Tre Quattro Cinque E sei Quando finiscono Le due ere Che ci sono regole particolari Però il gioco ragazzi Bene o male Tutto qui Poi magari qualcosa Mi è sfuggito Però va sicuro Che il funzionamento È tutto qui Quando sarà finito il gioco Voi farete Alla fine dell'era Dei treni Delle ferrovie Farete il conteggio E quello che c'ha più punti Ha vinto Ovviamente se c'è un pareggio Di punti Nel caso si va a vedere Chi c'ha più punti rendita E cose varie Ragazzi è tutto un gioco Di costruire nel punto giusto E vendere E Affidare le vostre risorse Vendere per conto vostro Perché andate a vendere Col mercato lontano Cotone Sete E cose del genere Quindi vendendo Quella l'azione vostra Però se un altro giocatore Vende tramite voi Voi comunque Col vostro porto Avete guadagnato Se un altro giocatore A te ti servivano Due carboni Per costruire qualcosa E quel giocatore Ti ha consumato I due carboni Te l'ha presi Per costruire qualcosa Di suo Te non c'è problema Magari la cosa dopo Ti toccherà andare a prendere Il carbone Da qualche altra parte O comprarlo dal mercato Del carbone Però a te Non te ne frega nulla Perché tanto comunque Girerai comunque la tessera E girando la tessera Guadagnerai Guadagni sia punti vittoria Che punti rendita Quindi che tu Lo utilizzi per te O che lo utilizzi Qualcun altro Te comunque ci andrà a guadagnare Ultima cosa Quando costruite Una struttura Qui levo un po' Di risorse Perché ve lo faccio vedere C'è una regola particolare Quando costruite Una fabbrica Che sia di carbone O che sia una ferriera Automaticamente Ci mettete i cubetti sopra Quindi Ricapitoliamo Questa Perché c'è il disegnino Quattro E questa C'è il disegno Quindi quattro di ferro E due di carbone Se nel mercato Manca qualcosa Voi dovete Per forza Per forza Non è che è una cosa opzionale Voi dovete Per forza Andarla a mettere Nel mercato Che è qua giù in fondo Quindi potete Prendere Direttamente Anzi Dovete prendere I due di carbone Che avete fatto Visto che ne mancano due E l'andate a mettere Nel mercato Quello che ha costruito La ferriera In questo caso Sempre il giocatore Viola Dovrà Dei suoi quattro Prenderne due Per andare A rinvigorire Il mercato Però Occhio Perché prendete anche Il costo che c'è qui Perché praticamente Lo state vendendo al mercato Quindi Uno Due E di qua Uguale Uno Due Perché se ne avevano più basso Sì l'avete venduta al mercato Ma vi siete presi Quattro monete Quindi il giocatore Viola L'ha venduta al mercato E si è preso quattro monete Se Perché potrebbe capitare Nel mercato Non ci sono più risorse Quindi mettiamo a caso Che sono state tutte quante tolte E non ce n'è più Comunque ce ne saranno sempre Pagandole cinque Vedete Pagando cinque Un cubetto di carbone Pagando cinque Un cubetto di ferro Ragazzi Le regole Sono praticamente tutte qui Con la differenza Che qua su Vedete Il ferro Si consegna Senza niente Perché lo portano a cavallo Con i carretti Il carbone Si consegna Sui battelli Oppure Nell'epoca industriale Con i treni Ragazzi Bene o male Le regole Sono tutte qui In poche parole Il regolamento È questo Il flusso di gioco Più che altro Ecco è questo Perché poi di regole Ci sarebbe qualcosa Di più particolare Ora Vi dico la verità Poi magari Se ho fatto un errore Vi invito A farmelo vedere Nei commenti A farmelo presente Perché almeno Mi rendo conto Anch'io Perché poi ci voglio giocare Farci un gameplay Di dove ho sbagliato Però vi dico la verità Ho letto il regolamento Una volta Poi magari so duro io Lo dico subito Ci ho capito poco o niente L'ho letto una seconda volta Me lo sono chiarito parecchio Ho detto Ah ok Mi sono visto Un altro tutorial Fatto da Proprio da loro Ufficialmente E me lo sono letto Una terza volta E io penso Bene o male Poi regola più regola meno Però almeno Il funzionamento Il flusso di gioco L'ho capito Non è Cioè è semplice Come regolamento Perché occhio Per me un regolamento Difficile Difficile Complicato Era serebria Questo non è difficile Come regole È anche abbastanza semplice Però sono di quei giochi Che c'è da tenere Tante cose a mente Quindi Se te mi fai Una regola difficile Mi ci vorrà tanto Per farmela entrare in testa Ma poi mi senta Perché oh L'ho capito È quella Ma se me ne fai 500 facili Che me le ricordo tutte Però dopo un po' Tenere tutte a mente Un casino E ci sono tante cose Che si possono fare Azioni Quando poi alla fin fine L'azione è sempre andare A costruire collegamento O costruire un'industria O comunque una struttura Una fabbrica O quello che è Un'è che ci vai Un pazzi Mettiamola così Però c'è tante cose A tenere in mente È un gioco Molto 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 Tattico Strategico E soprattutto Questo è veramente Logistico Come barrage Al 100% È un bel gioco Non è un gioco Per fanatici dell'epoca È un gioco per tutti A chi lega un pochino Anche magari appunto Alla logistica Gli spostamenti delle risorse Anche i movimenti tattici Perché come vi ho detto Io costruisco una struttura Temmela di lapidi Di tutti quanti I suoi contenuti Io dico Vabbè Mi serviva quel ferro Per costruire Ma che me frega Te l'hai preso E ci ho guadagnato Quindi è tutto Un dare e prendere Alla fin fine Questo gioco Ed è molto bello Interessante Non è per tutti Assolutamente Questo è un gioco Per chi lega Ma questo genere qui Non lo puoi portare al tavolo A farlo giocare a chiunque Però magari Con le dovute precauzioni Anche messo Al tavolo di gente Che non ha mai fatto Un gioco del genere Magari perché no Se glielo presentate Nella giusta maniera Magari li fate anche divertire Se gli devo dare un voto Gli do un otto e mezzo Perché è molto interessante E ripeto ancora una volta Come altri giochi Prima di lui Come anche Barraggio Ci ho visto delle cose interessanti Cioè Non mi piacciono a me Quei giochi Dove chi prima arriva Me li alloggia E me l'ha buttata nel sedere Ed è finita lì Perché Come abbiamo visto Anche in VT Culture Quando ad esempio Uno si arriva prima di me A fare quell'azione E non ho il contadino Quello grande Il fattore Io quell'azione Non la posso fare Perché mi è rubata Qui invece La cosa bella è che Anche se quel posto Me l'hai rubato Quel porto L'hai preso te Quella cosa L'hai preso Io comunque posso venire A vendere dal tuo porto Io comunque posso venire A comprare da te Il ferro E lo posso usare Per le mie cose Ovvio però Devo stare attento Perché più prendo da te Più ti faccio guadagnare I punti Soldi e rendita Che poi ti fanno vincere Però Mi hai rubato al 50% Fino a un certo punto Perché poi comunque Mi hai consentito Ad esempio Se io per costruire Con un porto lontano Non ho messo Un collegamento E non posso andare A vendere laggiù E ora come faccio Se mi ce la mette Un altro giocatore Io sfrutto il suo Di collegamento Quindi è tutto Un dare e un prendere Secondo me Un 8 e mezzo Meritatissimo E trovate il primo link In descrizione Dove acquistarlo Direttamente dal sito Della Genos Che io ringrazio davvero Di cuore Grazie per avermene mandato Una copia Per la recensione Ed è un piacere Come sempre Collaborare con voi E poi tutti quanti Link dei nostri social Secondo me ragazzi Sì Vi dico la verità È un gioco molto interessante E mi garba Veramente come idea C'è da capirlo un po' Non è semplicissimo Però una volta Che ci sei entrato Nelle regole Quale che infine Tutto un giocare carte Vedere dove puoi costruire Quella cosa Andarcela a costruire Non è nemmeno Dei più difficili Mettiamolo sì A livello è meglio Ciao ragazzi Alla prossima